Stai quadrando? Eeeh! Ma stai con la natura di vostro! Tirati qua! La panoramica! No, vicinanza a noi! Così, al di senza di pochi metri! Ma va, vorrei da girare! La panoramica! Eeeh! No, starete! Questo è quello che si legge il cane! Non so se è per la luce! Guarda, guarda, è un pelo! Eeeh, questo già lo sa usare! Mazzolo che balla, eh! Stai aspettando l'altra macchina che arrivi di qua! Questo in Eurovisione in diretta! Vabbè! Eeeh! 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 Li mettiamo su YouTube! Eeeh! 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 Ma come, che presema la velocità? Eeeh, mamma mia! Cazzo, questo è un pazzo! Cazzo! Ma che, che pazzo! Cazzo? Eeeh! 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 Grazie.